Beh, adesso è un momento d'attesa, è un momento d'attesa, perché ormai lo scandalo è partito qualche giorno fa, c'è il PD che esulta, c'è Fazio, scurati da Fazio, che fa il suo monologo, e qualcuno dalla platea, bravo, bravo! Vabbè, io veramente non guardo più le partite di calcio, ma mi vedo a questo punto le partite tra partiti politici, perché tanto più o meno ormai è la stessa cosa, a bestia a voi, non lo so, in altri sei per i cento minuti, schiedi e attivate la campanella per ogni aggiornamento, di cuore grazie a ognuno di voi! E adesso c'è l'attesa, c'è ulteriore attesa, un'attesa che in questo momento ha premiato, della serie. Ehi, la Meloni, della serie La Meloni, guardate un po' qua che ho, questa è una e-mail rivolta ai magistrati del magistrato Patarnello, dobbiamo fermare la Meloni, è peggio di Berlusconi, uniti, uniti, uniti! Insulti, è merito parassita, se ti vedo per strada ti metto sotto, e tanti altri commenti di questo calibro. Vittimismo, dice Lashlein, vittimismo, vittimismo, uguale vittimismo, vergogna, vergogna, vittimismo, vittimizzare così questa, non vittimizzare, al condannare così questa persona pubblicamente, in pubblica piazza, si vergogni, si vergogni, vittimismo! Scusi, ma ha visto almeno che cosa ha scritto questo magistrato che fa parte appunto del nucleo e collabora appunto con l'immigrazione a Roma? Cioè, no, 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 è vittimismo! Io non sono pro Meloni, però richiedere un arresto, richiedere, ripeto, un arresto per il magistrato? No, no, ma per quanto riguarda magari togliergli la possibilità di continuare con questo lavoro, sempre se il lavoro si chiami, a questo punto va, tempi bui vedo per questo paternelio, molto bui, voi cosa fareste?